Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Cambio di vertice, la guardia costiera di Giulianova, il tenente di vascello Daniela Sutera in comando dal 2020, lascia la città terramana per andare a Roma. Due anni impegnativi ma significativi. Sì, assolutamente, è una giornata emozionante, simbolica, oltretutto veramente significativa, non solo per me ma per tutto il circondario marittimo di Giulianova, che è il consueto passaggio di consegne. Le attività, come ho detto, sono state tante, ripercorrendo, cercando anche di tirare le somme del lavoro svolto, sicuramente tante le attività ambientali, le attività per materia di pesca, ma anche quelle di assistenza e soccorso, soprattutto quest'ultima estate dove i bagnanti e comunque gli utenti del mare sono notevolmente aumentati dopo il periodo effettivamente di stop dovuto al Covid. Adesso la mia destinazione è il comando generale del corpo delle Capitani di Porto, guardia costiera, che è all'Eur a Roma. Al suo posto il tenente di vascello Alessio Fiorentino, che è pronto a continuare il lavoro della collega e impegnarsi per nuovi progetti. Io qui a Giulianova ho trovato una situazione fantastica dal punto di vista del personale, dal punto di vista dell'ufficio, dal punto di vista della compattezza, anche dei rapporti istituzionali. Ho avuto il pregio e il privilegio di visitare la costa, di interloquire con gli attori istituzionali e ho visto una grande comprensione, una grande sensibilità verso l'amministrazione marittima e sono fiero di essere qui, sono onorato e ritengo che sia un circondario marittimo di assoluto pregio. Sicuramente ripartirò dal punto di partenza che mi ha dato la mia collega Danila Sutera, ha lavorato bene, ci sono ottimi rapporti, le situazioni in divenire saranno comunque costantemente comunicate, dobbiamo tutelare un lungo litorale marino, più di 60 km di costa, 7 sorelle definite tali, con 7 bandiere blu, che possiamo svolgere in routine, tutte le occasioni per migliorare un substrato già altamente elevato saranno comunque messe in campo.